Dopo un lungo e complesso lavoro di restauro abbiamo restituito alla comunità i due antichi cannoni. Sono trascorsi ben 21 anni da quando il 28 luglio del 2000 il nostro concittadino Vincenzo Merola durante un'immersione nelle acque del Fortino li trovò. Dopo il recupero sono rimasti custoditi per troppo tempo nei nostri depositi, lo fa sapere il sindaco della città di Agropoli Adamo Coppola. Per questo motivo nei mesi scorsi, continua Coppola, abbiamo deciso che era arrivato il momento di renderli visibili a tutti. Ci siamo avvalsi della collaborazione degli operai dell'Agropoli Cilento Servizi che hanno fatto un lavoro straordinario di recupero e restauro ed oggi sono visibili presso il castello Angioino Aragonese. Sono certo, conclude Coppola, che rappresenteranno un'ulteriore attrattiva per quanti visiteranno il castello destinato a diventare sempre più un polo culturale della nostra città.